Beautiful Anticipazioni, puntate americane. È Bill il padre di Luna? Tra Zende e Argiei è scontro. News davvero clamorose provengono dalle anteprime d'oltreoceano. Zende darà inizio ad una lotta senza esclusioni di colpi contro il cugino Argiei. E per colpirlo, non esiterà a sedurre la stagista Luna. Intanto, la sorella di Lee Finnegan, ovvero Poppy, incrocerà il giardino il potente Bill Spencer. Il magnate si avvicinerà prontamente a lei, affermando di averla già vista da qualche parte. Li confiderà a Finn di non conoscere la vera identità del padre della nipote. Beautiful Anticipazioni, puntate americane. Zende, per ripicca, inizia a corteggiare la fidanzata di Argiei. Il risentimento porterà Zende a vendicarsi del cugino Argiei arrivando a sedurre la sua fidanzata, la bellissima stagista Luna. Come vi abbiamo più volte anticipato, Ridge farà di tutto per tenere nascosta agli altri componenti della famiglia la malattia di Eric. E quando Zende esprimerà tutto il suo disappunto per la scelta di affiancare Argiei ad Eric come designer della sua ultima collezione, Ridge tenterà di fargli capire che non si è trattato di un qualcosa volto a favorire un nipote piuttosto che un altro. E, stata una decisione avvenuta in totale libertà da parte del patriarca. Zende, ignaro che il nonno stia per morire, sospetterà, invece, che Eric abbia proteso per Argiei solo perché figlio di Ridge, in modo da avvicinare il ragazzo all'azienda di famiglia, data la sua iniziale riluttanza. A franto, Ridge ribadirà di voler solo rispettare le, ultime, volontà di Eric. Nulla più, il Dominguez, però, non coglierà il senso delle sue parole e, nervoso, all'arrivo di Argiei, uscirà dall'ufficio sbattendo la porta, minacciando di tutelare da solo i suoi interessi, data l'assenza di sua madre Kristen. Rimasto da solo con suo padre, Argiei proverà a fargli capire che Zende debba al più presto conoscere il segreto di Eric. Ridge si opporrà fermamente, affermando che lui e Brooke stanno cercando di onorare le ultime richieste del patriarca e che non possono tradirlo. Zende rivelerà il motivo della sua rabbia anche a Hop e Thomas, che non esiteranno ad esortarlo a placarsi. A nulla varranno i loro tentativi di calmarlo. Pertanto, allarmati, raggiungeranno Ridge al quale confideranno di temere la possibile reazione del ragazzo. Ed essa, non tarderà ad arrivare. Gli spoiler, infatti, rivelano che il Domindies si convincerà sempre più di aver subito una ingiustizia e non vedrà l'ora di fargliela pagare al cugino, favorito. E così, quello stesso giorno, dopo il diverbio con Ridge, si recherà da Luna pronto a corteggiarla spudoratamente. Dopo aver elogiato il suo innato talento ed aver chiuso la porta a chiave, le ricorderà che Argiei non è l'unico giovane Forrester presente in azienda. Alla ragazza risulterà strana la sua incursione in ufficio e crederà che sia lì perché in cerca di qualcosa. Lui, con un sorriso che non lascerà presagire nulla di buono, affermerà sarcasticamente di sì, alludendo di essere in cerca di un qualcosa di inimmaginabile. E lascerà così intuire di voler attuare un piano perfido contro il cugino. Pertanto, si dirà disposto a giocare, sporco, pur di prendersi la sua personale rivincita su Argiei. I Forrester scopriranno prima o poi il suo oscuro progetto. Il Dominguez, attualmente, non è minimamente al corrente del grave problema di salute di Eric. Quando esse lo scoprirà, si tirerà indietro? E Luna, si lascerà per davvero sedurre dal figlio di Kristen? Ulteriori anteprime provenienti dagli USA indicano che, a breve, Thorne e Bridget si presenteranno a Villa Forrester. Nulla si sa riguardo alla trama in cui saranno coinvolti. Il sospetto è che ritorneranno per assistere l'amato papà nei suoi ultimi istanti di vita. Anche Rick, Felicia e Kristen si presenteranno al capezzale di Eric. Al momento tutto tace, vi aggiorneremo il prima possibile. Beautiful Anticipazioni, puntate americane. Luna è la figlia segreta del potente Bill Spencer. Bill avrà l'impressione di conoscere benissimo Penelope, ovvero Poppy, la tanto chiacchierata sorella di Lee Finnegan. Più volte abbiamo fatto cenno al fatto che la donna giungerà a Los Angeles con un grande segreto. E sarà pronta ad appoggiare, contro il netto disappunto di Lee, la relazione tra la figlia Luna e Argiei. Li obbligherà la nipote a lasciare il giovane Rampollo, ricordando che è stato a causa di Poppy che ha perso una importante opportunità di carriera. La sorella della Finnegan, infatti, in passato, strinse una relazione extraconiugale con il primario presso l'ospedale dove lei prestava servizio, portando la moglie di lui a vendicarsi. Ora, i nuovi spoiler indicano che Bill incrocerà la new entry. Ed avrà come l'impressione di averla già vista da qualche parte. Nelle puntate in questione, Bill, stanco delle interferenze di Sheila nella vita di Finn e Steffi, deciderà di recarsi al giardino per affrontarla una volta per tutte. Qui le intimerà di lasciare Deacon e di mantenere le distanze dai Forrester. Ad un tratto, Poppy, seduta ad un tavolo insieme alla figlia, catturerà l'attenzione del magnate, che non potrà fare a meno di avvicinarsi per approfondire la conoscenza. Poppy, decisamente a disagio, risponderà di non averlo mai incrociato. Dato che l'editore insisterà, sarà Luna ad intervenire e da presentarsi. Dirà di essere originaria di San Francisco e di essere giunta a Los Angeles per coltivare il suo grande sogno, essere assunta come designer alla Forrester Creations. Poppy, sempre più tesa, fingerà un impegno improvviso. Lo Spencer sarà così costretto ad allontanarsi. Luna, poi, dal suo cellulare, inizierà a fare delle ricerche su Bill e mostrerà alla madre alcune sue foto. Poppy continuerà a ritenere di non averlo mai incontrato in vita sua. Ma, in realtà, il suo volto sembrerà dire altro. E rimasta sola, affermerà di servare tantissimo rancore nei suoi confronti. Nel frattempo, nello studio medico di Finn, li rivelerà a quest'ultimo di essere profondamente rammaricata. Sottolineerà di non approvare la relazione tra il figlio di Brooke e Luna e di essere rimasta di stucco nello scoprire che Steffi li ha addirittura invitati a cena. Finn preciserà di aver dato loro il suo benestare e di tenere alla felicità della cugina. Ma li non esiterà a dipingere la ragazza nel peggiore dei modi, dandole addirittura della calcolatrice senza scrupoli. Stanco, il dottore esorterà la madre a riconciliarsi con Poppy. Li si rifiuterà categoricamente, continuando a far leva sul suo passato, torbido, nonché sul suo stile di vita irresponsabile, precisando che il padre di Luna potrebbe non essere famoso, primario dell'ospedale, bensì un altro uomo. In una soap come Beautiful, si sa, i dialoghi e gli incontri non avvengono mai a caso, ma sono preludio di storyline a forte impatto. Che il vero padre di Luna sia proprio Bill Spencer? Al momento, i nostri spoiler terminano con questo interrogativo. Tempo fa, le anteprime americane segnalavano grandi cambiamenti sentimentali e familiari per il potente Spencer. Luna è dunque sua figlia? E se sì, tra lui e Poppy si riaccenderà la scintilla dato che Katie sembra ormai aver gettato la spugna? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie. Grazie. Grazie.